Oggi ragazzi andiamo a vedere un'applicazione, un social che ci paga per fare interazione Che cosa vuol dire? Ci paga per seguire le persone, ci paga se veniamo seguiti Quindi sarà un guadagno per tutti, ci paga se andiamo ad aggiungere dei post Andiamo a dare like, andiamo a scrivere dei commenti sotto ai post Tutto con un'unica applicazione, un social che ci paga per fare interazione Ma prima di proseguire con il video ti voglio come sempre invitare ad iscriverti al mio canale di youtube Attivare la campanellina se vuoi rimanere aggiornato su tutte queste app, su tutte le strategie di guadagno online Senza investimento di denaro che ti fanno guadagnare soldi Con questa app, con questo social andiamo a guadagnare soldi su paypal Vi lascerò il link qui sotto in descrizione della app Una volta che l'avete scaricata e vi siete registrati ragazzi Come un normale social dobbiamo mettere la nostra username, dobbiamo mettere l'immagine del profilo E dobbiamo creare praticamente il nostro profilo personale Come vedete qua, attualmente io sono nel mio profilo personale Ho 53 follower e ho seguito 56 persone Perché sto andando a seguire le persone? Perché vengo pagato per farlo Il prelevo minimo è di 20 euro su paypal o tramite bonifico bancario Ho già visto prove di pagamento di questa app E per questo che la sto portando nel mio canale di youtube E oggi insieme raga vi voglio fare vedere come funziona Prima di tutto scaricate la app Qui sotto c'è il link in descrizione del video Vi andate a registrare Create il vostro profilo personale Avrete ovviamente la vostra baccheca vuota Qua andate poi a creare Dove c'è scritto create new collection Andate a creare delle baccheche vostre personali Dove all'interno delle baccheche possiamo mettere tutto quello che vogliamo Come vedete ci sono le app, le serie tv, i film, la musica, i giochi E altri film ho messo E ho messo anche delle scarpe Che cosa possiamo fare con questo social qua? Con questo social noi ragazzi possiamo andare a condividere serie tv, applicazioni, film, musica E metterli all'interno dei nostri profili personali Quindi non saremo proprio noi a postare quindi le nostre foto personali Ma dobbiamo praticamente andare nel discover a cercare quello che ci piace Ragazzi come vedete qua ci sono le altre persone che stanno postando Se io vado a mettere like Vado a fare interazione Sto venendo praticamente pagato Quindi ogni persona che ci segue Ogni persona che andiamo a seguire Ci farà guadagnare dei soldi Quindi è un guadagno praticamente per tutti Andando nel vostro profilo personale raga nella destra A voi vi comparirà una notifica Lì andrete a vedere il vostro livello Tutti quanti all'inizio appena ci registriamo siamo a livello basso Una volta che abbiamo sbloccato altri livelli Andando ovviamente sempre ad accedere all'applicazione Andando a dare like Andando a seguire le persone Andando a commentare i post Andiamo a seguire di livello E che cosa succede? Ci comparirà in alto nella sinistra questo wallet Ci premiamo sopra Come vedete io sto usando l'applicazione Il social da una settimana Ok? Senza usarlo poi tutti i giorni Ho guadagnato 97 centesimi di euro Perché? Perché sono andato a fare interazione Più interazione andiamo a fare Più soldi andiamo a guadagnare Qui sotto nei commenti raga Se volete potete mettere le vostre username del social Chiamato people Scrivete people due punti Poi scrivete la vostra username Perché la persona cosa può fare? Può andare nel motore di ricerca E vi può andare a cercare Andatemi a cercare anche a me Io mi chiamo Felix Garden Mi andate a cercare Mi andate a seguire E io ovviamente Visto che voi mi seguite Vi vado anch'io a seguire Perché alla fine Tu ci guadagni E io ci vado a guadagnare Tutti quanti ci andiamo a guadagnare praticamente E vi voglio fare vedere Che andando nel motore di ricerca Come vedete Possiamo andare a condividere I nostri videogiochi preferiti I nostri film preferiti Ristoranti Qualsiasi cosa Libri Musica Serie tv Applicazioni Abbigliamento elettronica Adesso per esempio Vado in movies Vado a ricercare Casomai Il mio film preferito Lo vado poi a condividere Nella mia bacheca Possiamo andare nel discover A vedere Come se fosse una home Questa qua ragazzi Dove possiamo vedere Gli altri follower Andiamo nel nostro profilo personale Andiamo a creare Una bacheca Diamo il nome alla bacheca Se vogliamo creare una bacheca Riguardante i film Ovviamente Andiamo a scrivere film Film ok Fatto Deve essere su pubblico Ok Creiamo la bacheca Una volta creata la bacheca Sarà messa qua Ci andiamo a ripremere sopra Ragazzi che cosa dobbiamo fare Andiamo a premere sulla più Qua in centro Ci premiamo sopra E ovviamente Visto che la nostra bacheca Parla di film Andiamo su movies Qui ragazzi Possiamo andare a ricercare Tutti i film del mondo Tutti i nostri film preferiti Quindi basterà O andare a scrollare Nelle varie pagine Vedere dov'è il nostro film preferito Oppure basterà andare Nel motore di ricerca E andarlo a scrivere Io scrivo per esempio Il signore degli anelli Come vedete Mi sono comparsi Praticamente tutti i film Visto che a me piacciono molto Questi film qua Vado a premere Sul film Mi farà vedere L'immagine di copertina Del film E lo vado a salvare Praticamente Nella mia bacheca Che cosa succede? Tutte le persone Che mi stanno seguendo Riceveranno ovviamente Una notifica Che ho creato Una bacheca E che sono andato A mettere all'interno Di questa bacheca Un film mio preferito Che cosa fa la persona? Può andare a vedere Il film E se gli piace Può andarmi a mettere Mi piace Può andarmi a scrivere Dei commenti E ovviamente Più interazioni ci sono Tra di noi raga Quindi possiamo guadagnarci Praticamente tutti Più soldi Andiamo a guadagnare Ritornando poi Nel nostro profilo Andiamo a ricaricare Poi la pagina Qua abbiamo Poi tutte le nostre Bacheche create Con le nostre app I nostri film E la nostra musica preferita Andando sempre nel wallet Possiamo andare a vedere Aumentare ogni giorno Il nostro guadagno Una volta arrivati A prelievo minimo Possiamo andare a premere Su transfer To my account Qua ragazzi Possiamo andare Con un prelievo minimo Di 20 euro A prelevare O tramite bonifico bancario Oppure tramite paypal Premiamo su ok Possiamo andare Nel nostro profilo personale Qua raga Una volta che siamo Saliti di livello Ripeto tutti Che per salire di livello E attivare la monetizzazione Tutti quanti voi All'inizio sarete Come profilo base Normali Una volta che avrete Sbloccato gli altri profili Possiamo poi andare Ad aggiungere I nostri account Preferiti Di instagram TikTok E youtube E qui ragazzi Andrete a vedere I vostri livelli Qua come vedete All'inizio Tutti quanti voi Sarete di livello rookie Andando ad eseguire Praticamente Le istruzioni Che dice l'app Andando a seguire Le persone Andando a creare Le vostre baccheche Aggiungendo Film Musica Tutto quello che volete Andando a mettere like Andando a commentare Andrete a salire di livello Dopodiché Andrete a sbloccare Dal livello rookie Andrete al livello influencer Una volta che l'avete Sbloccato Questo livello qua Si sarà attivata La monetizzazione Nel vostro profilo personale Come vedete La mia percentuale Del livello influencer È del 29% Per andare a sbloccare Il livello Unicorn Si chiama Devo arrivare A 100% E devo effettuare Altre opzioni Che mi chiede L'applicazione Per sbloccare Il livello Unicorn Una volta arrivati Poi Almeno a Influencer Come livello Andrete a sbloccare Praticamente Il vostro wallet Personale Qua ragazzi Come vedete Ho 97 centesimi Di euro Non solo Abbiamo sempre Ogni 24 ore Il daily mystery box Ci andiamo a premere Qua sopra Sea gift Andiamo a vedere Se vinciamo qualcosa Questa qua Praticamente È una lotteria Che ogni 24 ore Premia Gli utenti Che sono iscritti A questo social Andiamo a vedere Open new mystery box Andiamo a vedere Se vinco Ragazzi E che cosa Si può vincere Come vedete Questa qua È una cassa Della GPL Qua l'applicazione In modo automatico Sta scegliendo Le persone Che hanno vinto Questa cassa Come vedete 10 persone Hanno vinto Questa cassa bluetooth Non l'ho vinta io Ok Ritorniamo indietro E l'applicazione Praticamente È tutta qui Questa qui È un social Che ti paga Se vai a seguire Le persone E ti paga Ovviamente Se vieni seguito Dalle altre persone Ti paga Per postare Ciò che ti piace Come applicazioni Serie tv Film Musica Giochi Qualsiasi cosa Andandola a postare Andando a ricevere Like Andando a ricevere Dei commenti Andrai sempre A guadagnare Soldi Nel tuo wallet Personale Una volta arrivati Prelevo al minimo Poi andare a prelevare I tuoi soldi Su paypal Ebbene ragazzi Per il video è tutto Vi lascio il link Qui sotto In descrizione Di questa applicazione Che è un social Che ti paga Per fare interazione Mi raccomando ragazzi Se volete rimanere aggiornati Su altre app Che fanno guadagnare soldi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati Sui video futuri Noi ci vediamo Ci sentiamo In un prossimo video Ciao Da Felix